Sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di un quantitativo di marihuana occultata all'interno dell'auto sulla quale viaggiavano. Sono stati arrestati dalla polizia e collocati ai domiciliari con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. E quanto accaduto a Niscemi? Destinatari del provvedimento restrittivo sono due pergiudicati, Roberto Schembri, 30 anni, ed il ventenne Ghetano Menzo. Sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di marihuana. Gli agenti di polizia diretti dal commissario capo Andrea Monaco hanno dato vita ad un servizio finalizzato alla prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. La squadra investigativa, con l'ausilio di personale della squadra volante, ha proceduto in una zona poco distante dal centro abitato al controllo di un'autovettura con a bordo i due soggetti già noti per i diversi precedenti di polizia in materia di spaccio di droga. Alla vista dei poliziotti, i due niscemi hanno mostrato segni di insofferenza e a quel punto gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione personale nei loro confronti successivamente estesa anche all'auto sulla quale viaggiavano. La perquisizione ha dato esito positivo. Occultata sotto il sedile lato passeggero della macchina, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente un involucro di carta stagnola con all'interno lo stupefacente. I due sono stati immediatamente arrestati. Il controllo di polizia rientra nell'ambito dell'implementazione dei servizi di ispezione del territorio e dell'attività di contrasto al mercato illecito degli stupefacenti disposta dal questore Bruno Megale di concerto con il procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela, Lucia Lotti.